Le direzioni distrettuali antimafia di Napoli e Palermo in data odierna hanno eseguito due provvedimenti cautelari rispettivamente un decreto di fermo e un'ordinanza di custodia cautelare inerenti importanti traffici illeciti internazionali. In particolare la procura di Palermo diretta dal dottor Francesco Lovoi ha dato esecuzione all'ordinanza del GIP che ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi in operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio internazionale e di fraudulento trasferimento di valori aventi ad oggetto ingenti somme di denaro riconducibili al patrimonio dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, formatasi negli anni 70 con il CD Sacco di Palermo e il traffico internazionale di stupefacenti conosciuto come Pizza Connection ed altre si proceduto al sequestro penale della somma di circa 20 milioni di euro depositata in Albania nonché al sequestro di prevenzione per circa 30 milioni di euro in esecuzione di decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del locale tribunale recuperando i beni sottratti all'esecuzione del decreto di confisca emesso nei confronti del noto imprenditore palermitano Francesco Zummo. La procura di Napoli diretta dal dottor Giovanni Melillo ha proceduto in relazione ad un'associazione criminosa dedita al riciclaggio dal traffico internazionale di incentissimi quantitativi di stupefacenti. Le indagini avviate all'indomani del sequestro eseguito nel giugno del 2020 nel porto di Salerno di oltre 17 tonnellate di stupefacenti hanno condotto all'individuazione di una sofisticata associazione criminosa con base in Albania, Italia e Svizzera finalizzata all'importazione di grandi quantitativi di cocaina e hashish dal Sud America e dal Nord Africa e al riciclaggio dei relativi enormi profitti. Le indagini della DDA di Napoli si sono giovate dalla preziosa collaborazione del Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera e della Polizia Giudiziaria Federale di Lugano. Contestualmente anche la procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana ha proceduto all'arresto di cittadini albanesi che hanno consentito il riciclaggio di 20 milioni di euro riconducibili a Cosa Nostra sequestrata dalla procura della Repubblica di Palermo. La complessiva attività investigativa si è caratterizzata per la stretta cooperazione e il costante coordinamento investigativo in atto tra le procure della Repubblica di Palermo e di Napoli, ciò che ha reso ancora più proficua la cooperazione internazionale delle competenti autorità di Albania e Svizzera, così consentendo la minuziosa ricostruzione di plurimi e gravi fatti illeciti connessi tra loro, oggettivamente e o soggettivamente e la sinergica conduzione delle operazioni in Italia e all'estero.